Assessore di Dalmazio, quasi 9 milioni di euro per sostenere le imprese turistiche dal nuovo bando della legge 77, ma le novità potrebbero essere rappresentate dalle modalità di presentazione delle domande? Sì, innanzitutto è da dire che questa è una legge con fatica, con grande fatica, con un lavoro certosino, abbiamo messo insieme le risorse per presentare un programma che è indirizzato anche significativamente con delle linee di politica verso una premialità, verso chi investe sulla qualità, perché la sfida è sulla qualità soprattutto, dalle nostre imprese. Abbiamo cercato di convogliare il programma con attenzione esclusivamente sui profili della ricettività e di tutto ciò che ha annesso alla ricettività e alle stabilimenti balneari. Questo perché ritenevamo proprio che la dotazione finanziaria dovesse essere in qualche maniera funzionalizzata, essendoci altri programmi che supportano altri tipi di attività non strettamente legati alla ricettività o alla ristorazione connessa alla ricettività o al benessere e quant'altro. E in secondo luogo è un programma aperto, perché se ci saranno altre risorse siamo pronti a implementarlo, la modalità di presentazione. La modalità di presentazione, fortunatamente, dico io, ho una difficoltà, diciamo, dell'organiziativa delle poste, nel senso che ci sono alcuni uffici che aprono prima, alcuni uffici che hanno orari di apertura diversi, in più c'è una circolare delle poste che sconsiglia questo tipo di procedure, impedirà la classica procedura sportello, che noi per legge non abbiamo potuto cambiare per ragioni che ho spiegato in conferenza stampa, ma che rappresenta una modalità oggettivamente poco edificante. Quindi adesso stiamo valutando quale sarà la modalità, probabilmente ci orienteremo verso una sorta di sorteggio pubblico, chiaramente a condizioni di ammissibilità, una volta valutata l'ammissibilità delle domande, e comunque ne parleremo con le associazioni in categoria proprio per trovare una formula che garantisca la celerità, ma la trasparenza non c'è dubbio, ma che scongiuri questa barbarie della corsa allo sportello postale. In ogni caso l'assessore non cambia la sostanza del bando, quindi la data di scadenza rimane quella? Sì, poiché non si va a inficiare un'attività preparatoria, dei progetti, ma semplicemente una modalità di ricevimento e quindi poi di selezione, noi siamo propensi a non procrastinare la data di scadenza, anche per fare in modo che le risorse arrivino meglio e prima sul territorio.